Ciao a tutti! Oggi prepareremo le zucchine a varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a pezzetti, acqua, sale, olio evo e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, posizionare il varoma con le zucchine, chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. Temperatura varoma, velocità 2. Le zucchine sono cotte, trasferire in un piatto da portata. Condire con un po' di sale. del pepe nero, il prezzemolo ed un filo d'olio. zucchine a varoma. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Grazie a tutti.